Salve a tutti amici di Marcosbox e ben ritrovati nell'appuntamento settimanale del riassunto. In questo video andiamo appunto a discutere degli argomenti che sono stati postati su Marcosbox da me e dai miei amici durante il corso dell'ultima settimana. Cominciamo con la prima notizia. La prima notizia è stata praticamente una guida, una piccola guida che ho realizzato su come installare il nuovo lanciatore applicazioni Kikr su Kubuntu. Kikr che cos'è? E' un lanciatore applicazioni che è nato in seno al Netrunner, la distro derivata di Kubuntu. Il lanciatore si presenta bene perché praticamente è molto minimale, molto leggero, molto immediato nell'utilizzo perché facilmente trovate... cioè avete subito le categorie, avete subito i preferiti e poi avete appunto la possibilità di effettuare una ricerca all'interno dei programmi. Quindi il lanciatore è molto minimale ma anche molto funzionale. Potete installarlo su Kubuntu naturalmente, in quanto questo programma, questo press mode è presente nei repository di Kubuntu gestiti dalla Bushel Team. Quindi nel post trovate come aggiungere il PPA e come installarlo. Provatelo, perché è molto carino. Altro post della settimana è stato un'altra guida che ho realizzato sempre nel mondo KDE. Questa settimana sono tornato a postare notizie su KDE. Su come installare Firefox con l'integrazione per KDE all'interno di Debian Testing. Sapete bene che su Debian non c'è Firefox originale, tra virgolette, perché per problemi di licenza, per il fatto del logo e compagnia bella. Oltretutto la versione che c'è di Firefox all'interno di Debian non è una versione che ha le patch di compatibilità nati sino a OpenSUSE. Quindi se lo utilizzate su Debian, se lo utilizzate appunto Firefox su Debian con KDE, non vi ritrovate tutte le patch di integrazione dei MemeType, le finestre di dialogo e cose del genere. Fortunatamente è possibile utilizzare lo stesso PPA che utilizziamo su Cobuntu. Aggiungendo questo PPA, seguendo la guida, ringrazio poi Andrea che ha effettuato anche un test su Debian che mi ha aggiunto una correzione. Perché la guida che avevo utilizzato suggeriva di utilizzare il pinning. In realtà è un passaggio superfluo perché funziona, anzi dà problemi se fate il pinning in alcuni casi. Quindi andatevi a leggere la guida, se utilizzate Debian, se volete fare Firefox con l'integrazione, sapete come fare. Quindi ho postato anche una notizia che potrebbe interessare molti di voi, molti che sono interessati al mondo della programmazione e che vogliono lanciare una start-up. Enter, l'Internet Cloud Service Provider italiano di cui vi ho parlato nei mesi scorsi e anche in altri post, ha deciso di investire nel mondo delle start-up. E' lanciato lo start-up program, praticamente offre ben migliero di risorse di cloud computing o cloud storage da utilizzare con la propria sita, Enter Cloud Suite. Trovate nel post tutte le informazioni su come partecipare e su come poter beneficiare di questa offerta. E' molto interessante se volete fare una cosa del genere. Stefano poi, martedì, ha pubblicato la famosa seconda parte sul riuso dell'open source. Nella prima puntata lui si è dedicato agli argomenti sugli open data, sui dati aperti, su come dovrebbero essere distribuiti i dati grezzi e cose del genere. Nella seconda puntata ha fatto un riassunto della normativa italiana. Il quadro legislativo italiano, come ben sapete, è cambiato, perché con il decreto di crescita 2.0, pubblicato quando c'era Monti, praticamente c'è stata una riforma del codice amministrativo digitale, introducendo diverse migliorie sotto l'aspetto del free software, dell'open source. Praticamente il testo, la nuova normativa, predilige l'utilizzo di soluzioni open source e free software. E mano a mano il software proprietario deve praticamente quasi scomparire, o appunto avere una percentuale minima di utilizzo nella pubblica amministrazione. Oltre a questo, nel post Stefano parrà anche dell'agenda per l'Italia digitale, del sito che è stato messo su, che serve praticamente, sono elencati tutti quanti i software che possono essere riutilizzati, con tutte le varie normative e tutto il resto, e in più Stefano fa alcune considerazioni su questo argomento. Andatevelo a leggere, io ripeto, per l'ennesima volta, già la scorsa settimana, quando è stato pubblicato l'altro post, vi ho invitato a leggere, andate a leggere sia la prima parte che la seconda parte. Sono post interessanti, perché non sono, diciamo così, argomenti che tanto spesso vedete sui siti che si occupano di Linux e cose del genere in Italia. Quindi, leggeteli, perché sono molto interessanti, e condivideteli. Perché, c'è la vita che è un pochettino, che è un braccio corte delle condivisioni. Marco Persi, poi in settimana, ha pubblicato alcune sue impressioni su Firefox 26. Firefox si è aggiornato. Questa nuova versione, diciamo che è una minor race. Loro non l'hanno chiamata 26, ma in realtà sarebbe, dovrebbe essere, appunto, una 25 qualcosa, perché alcune feature che sono state introdotte sono feature minori. C'è il click-to-play abilitato di default, c'è il Firefox OS App Manager, il supporto per l'H264, e qualche miglioramento della gestione delle RAM. Miglioramenti che però non sono apprezzabili se provenite già dalla 25, ad esempio, perché, diciamo che il processo di miglioramento del consumo della RAM è iniziato con la 23. appunto, se è passata dalla 25 alla 26, non va accoggiare praticamente di nuova. Grosse novità, quindi, non ce ne sono, purtroppo. Speriamo nei prossimi re-hash, speriamo in qualche altra cosa di meglio. Contemporaneamente al re-hash di Firefox 26, per desktop e mobile. Tra parentesi, su mobile ha fatto anche un re-design, questa nuova versione continua un re-design della schermata principale, insomma, quella che ha visto con tutte le miniature, tutte le persone del genere, quando ha lanciato l'applicazione. Quindi, appunto, correzioni sono state, sono state pochissime. Come dicevo, accanto al rilascio della nuova versione di Firefox, c'è stato anche il rilascio di Firefox OS 1.2. Per adesso, il changelog è lunghissimo, andatevelo a leggere, non ve lo leggo nemmeno, perché se inizio a leggere il changelog, ci spicciamo domani mattina. Bisogna vedere adesso quando questa nuova versione verrà introdotta sull'Hacktel One Touch Fire, lo smartphone rilanciato da Tim con Firefox OS in Italia. Vedremo come verranno gestiti gli aggiornamenti, quando ci sarà, quando non ci sarà. Poi, se avete comunque, se avete acquistato il device, come vi ho detto nelle scorse settimane, fatemelo sapere, così magari raccontiamo un po' i vostri pareri. Notiziona della settimana, che potrebbe interessare moltissimo, ma a me, per esempio, fa piacere questa notizia, è che finalmente, Mark Shuttle, o Mark, navetta dello spazio, chiamiamola così, ha praticamente trovato un produttore hardware per il primo device con Ubuntu Touch OS. Questo produttore produrrà un terminale di fascia alta che vedrà la luce nel 2014. Oltre a questo, Mark fa sapere che ci sono trattativi con almeno oltre quattro grandi produttori, quindi speriamo che il 2014 sia l'anno di Ubuntu Touch, quindi con il nuovo sistema operativo, che potremo finalmente metterci le mani su, anche noi che non testiamo giornalmente le varie boot, perché, come ben sapete, sui device Nexus è possibile installarlo. Io su Nexus 4, per adesso, non me la sento di provarlo. Un post che ha riscosso tante visite e tanti commenti positivi è stato il ritorno della rubrica Lavorare con Linux. Come ben sapete, su Marcos Box ci sono diverse rubriche che portano avanti da tempo. C'è quella, una di queste è appunto Lavorare con Linux, che è una finestra che offro a tutti quanti coloro utilizzano Linux nel lavoro di tutti i giorni, quindi in qualsiasi ambito lo utilizzate, appunto questa opportunità, questa finestra che vi offro di poter raccontare la vostra storia, quindi se volete raccontare la vostra esperienza, scrivetemi, sarò felicissimo di pubblicare il vostro testo con la vostra esperienza. Questa rubrica serve anche per sdoganare il solito concetto di Linux, non si può utilizzare sul posto di lavoro e cose del genere. Quindi serve appunto a togliere questo mito, questo falso mito, che è vero, ma magari soltanto in qualche piccolo ambito di nicchia che ci sono alcuni problemi. Comunque, tornando a noi, questa settimana ho avuto modo di intervistare Mario, Mario chi è? Mario Grebrese è un mio amico su Google+, che conosco praticamente da quasi dalla formazione di Google+. Mario lavora in Francia e nel suo post, che dovete andare a leggere, non vi è anticipo nulla, racconta il suo utilizzo di Linux nel mondo del lavoro. Quindi andatevelo a leggere, che è molto interessante, e condividetelo. Magari lasciate anche un commento qui sotto. Marco Persi poi ha pubblicato in settimana alcuni mock-up di Nautilus, la prossima versione di Nautilus. Che dire, che dire, vedendo questi mock-up, questi... le finestre di Agle, tutto il resto di Nautilus, beh, sembra che Nautilus sia destinato a migliorare parecchio sotto l'aspetto delle funzionalità. Sapete che adesso è molto castrato, cioè rispetto a Dolphin e la sua controparte per KDE. Nautilus è 100.000 gradini sotto. Questa nuova versione, questi nuovi mock-up, promettono famiglia. Speriamo di vederli quanto prima nell'immediato futuro. Notizietta della settimana è che Stima ha iniziato la consegna ai primi 300 fortunati beta tester, quasi tutti esclusivamente americani praticamente, perché alla fine non mi sembra che ci sono state altre di altre nazioni, che hanno ricevuto, riceveranno in questa settimana, i primi prototipi della Steam Machine. Quindi, buon per loro, diciamo così. Notizia che ha fatto anche discutere questa settimana è stata l'annuncio da parte di alcuni sviluppatori di Canonical del fork del GNOME Control Center. Praticamente, su Ubuntu 14.04 non ci sarà più lo GNOME Control Center che avete visto nelle precedenti versioni. O meglio, ci sarà, ma sarà praticamente un fork, perché che cosa accadeva? In Canonical, in Ubuntu, venivano applicate una serie di patch, tante patch, sono 61, se non ricordo male, ad una versione vecchia del GNOME Control Center che era 3.6 e che trovate appunto sulla 13.10 e su altre versioni. Bene, il team che sviluppa Ubuntu ha deciso di forcare questo, di questa versione, proprio per evitare di dover stare sempre ogni volta a baciare, fare, dire, avere un controllo più, in questo modo, avere un controllo più più comprito del programma e quindi viene forcato e questo nuovo Control Center si chiamerà Unity Control Center e sarà presente su Ubuntu 14.04 quindi durante tutto il periodo della LTS. Questo Control Center però avrà comunque una vita breve. Perché avrà una vita breve? Perché Unity Control Center verrà sostituito prossimamente da Ubuntu System Settings che è praticamente il centro di control unificato che troveremo anche su sulla versione mobile di Ubuntu. A me personalmente questa notizia fa piacere perché alla fine comunque si eviteranno anche le solite polemiche sulle patch upstream e compagnie belle e anzi questa cosa l'avrebbe dovuta fare molto prima molto prima Canonica. Sempre Marco Perso in settimana ha postato un interessante esperimento diciamo così del Bugi Bugi desktop non lo pronuncia non so come cavo si pronuncia vabbè Ikei ve lo ricorderete per solus OS creatore di consort adesso si è messo a smanettare con con Gnome Shell e che cosa ha tirato fuori ha tirato fuori questa nuova versione questa versione modificata del Gnome Shell perché praticamente lui sta facendo una serie di patch e compagnia di modifiche sfruttando appunto il javascript e cose del genere e ha creato Bugi desktop il lavoro è attualmente work in progress e potete installarlo se utilizzate open source perché è presente in un repository che cos'è è praticamente fa quello che fa cinnamon ma lo fa meglio e lo fa senza forcare il lavoro seppur nelle prime fasi seppur portato avanti da una sola persona sta procedendo bene cavolo basta guardare i risultati di video che ogni giorno posta le modifiche che posta ogni giorno i key devo dire che è un bellissimo bellissimo esperimento un bellissimo lavoro faccio i miei complimenti anche io i key sperando poi di poterlo provare perché per adesso essendo soltanto su open source non me la sento di mettere open source perché sto sto su kubuntu sto su kubuntu per provare kde 4.12 però nei prossimi vediamo nel periodo iniantale se riesco a farci un saltino su open source e magari posso provare bugie bugie desktop bene l'ultima notizia della settimana che ce la siamo lasciati proprio per fresca fresca è il tanto atteso annuncio del rilascio di steam os steam os adesso è disponibile per tutti quanti coloro i quali fossero intenzionati a provarlo steam os come ben sapete che cos'è è un sistema operativo linux la grande novità che abbiamo scoperto quest'oggi perché l'annuncio è stato dato ieri comunque stamattina è stato postato in post da marco persi è che steam os è basato su debian 7.1 quindi tutti quanti quelli che pensavano che sarebbe stata basata su ubuntu noi non lo dicevamo perché avevamo avuto delle informazioni si trovano si trovano mettere nell'angolino e ho sbagliato ho detto le fesserie appunto steam os è un fork di debian 7.1 come de avrà a gnum kernel 3.10.11 e praticamente che cos'è praticamente è stato aggiunto è stato fatto un fork con l'aggiunta del client steam e dei driver video che restano proprietari ovviamente perché diciamo così a stimi interessa qualcosa che sia prestante e funzionale c'è tutta una lista dei pacchetti inclusi che dire i requisiti sono sono abbastanza sono abbastanza elevati consigliati diciamo così sono un processore a 64 bit 4 giga di ram 500 giga di spazio disponibile questo probabilmente per i giochi non per altro e adesso schede video nvidia comunque saranno supportate presto anche le schede video md e poi intel supporto al wifi e come requisito vabbè una porta usb per l'installazione nel post marco persi ha spiegato anche come scaricare e installare simo s badate bene non fatelo se non siete pratici di linux perché altrimenti brassate tutto la disc e poi venite a dire eh ma ho brassato tutto la disc che è coppa 2 e così del genere se volete provarlo trovate una macchina sul quale installarlo sul quale fare gli esperimenti e sappiate a quello che andate incontro diciamo così quindi occhio quando fate questa cosa qui bene con questo concluso queste sono tutte le notizie della settimana ci vediamo la prossima settimana con la solito appuntamento magari se marco riesce marco persi riesce a a fare una prova o chi per lui della nuova di questo stimolo s farò un post di approfondimento durante la settimana un video di approfondimento durante la settimana bene lunga vita e prosperità a tutti quanti c'è un sole pazzesco stamattina alla prossima ciao ciao